Il rammarico è che l'amministrazione comunale, dal sindaco alla giunta a qualche consigliere comunale, non si è visto in questa manifestazione. È una manifestazione dalla città di Busto Assizio, non è solo la manifestazione di Sacco Nago, quindi avremmo voluto la loro presenza. E di solito venivano? Sono sempre veniti, anche e soprattutto il sindaco precedente, Gigi Farioli, era sempre presente nelle nostre manifestazioni. Ex consigliere comunale di centrodestra, nelle vesti di volontario Carlo Fontana parla di uno dei dispiaceri maggiori di questa edizione della tradizionale festa di Madonna in Campania, costretta a traslocare all'oratorio San Luigi. E qualcuno dice anche che la magia non c'è più perché non si è più all'ombra della chiesetta. Quello purtroppo è il nostro crucio maggiore perché purtroppo lo svolgersi dalla manifestazione là, in luogo, accanto alla chiesa, non è stato possibile perché ormai è un'area di cantiere che il comune ha dato per le ferrovie enorme. Quindi per quest'anno e probabilmente anche per qualche futuro anno, l'anno prossimo sarà sicuramente ancora qua, purtroppo. Nata per propiziare la pioggia, ironia della sorte, quest'anno la Sagra è stata anche penalizzata dal maltempo ma i volontari non si sono arresi. La fiacola è tornata, sono andati a prenderla ieri che era il primo maggio, dovevano arrivare in oratorio ma a causa maltempo sono arrivati in chiesa, comunque è andato tutto bene, è positivo, si sono divertiti e hanno portato a casa un bel ricordo come tutti gli anni.